Vedete questo piccolo orso? Lei è Gaia! Ma che razza è? Beh, Gaia è un Golden Retriever, nello specifico un Golden Retriever americano. Infatti, esistono due linee di Golden Retriever, la linea europea e la linea americana. Queste due linee presentano delle differenze a livello morfologico. Tuttavia, è importante sottolineare che non si tratta di due razze differenti. Infatti, la linea europea e la linea americana fanno parte sempre di un'unica razza, ovvero il Golden Retriever.